Europa supera la soglia dei 6 milioni di contagi di coronavirus e più di 237 mila morti. Da oggi bar sale da ballo e tavole calde rimarranno chiusi per un mese a Bruxelles dopo un'ulteriore impennata di casi. La misura è stata decisa dopo che per una settimana di seguito il Belgio ha registrato più di 3 mila casi al giorno. In Francia un nuovo picco di casi con un tasso di positività al 9,1 per cento aumentano anche le vittime. Ma il caso del giorno è rappresentato dalla decisione della Corte Superiore di Giustizia di Madrid che ha bocciato le misure di contenimento del coronavirus imposte dal governo alla capitale spagnola e ad altre nove città della provincia affermando che la decisione sul lockdown parziale lede i diritti e le libertà fondamentali. Una decisione anomala per misure di contenimento non particolarmente restrittive simili per molti versi a quelle che abbiamo avuto in Italia. Intanto la Repubblica Ceca ha registrato oltre 5 mila casi di covid-19 nelle ultime 24 ore, il dato più alto dall'inizio della pandemia che pone il paese dell'Europa centrale in testa all'Unione Europea per numero di contagiati. Nuovo allarmante record di casi in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4 mila nuovi contagi. Preoccupazione infine nel Parlamento Europeo il cui presidente Davide Sassoli dopo essere stato in contatto con un membro del suo staff risultato positivo si è messo in quarantena.